Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Continuiamo la nostra carrellata sull'ermetismo e stavolta parliamo di Mario Luzzi. Ma chi è questo poeta? Mario Luzzi è un poeta importante, contemporaneo, che non sempre si affronta a scuola. Però voglio proporvelo. Mario Luzzi nasce nel 1914 a Castello, in provincia di Firenze. Dopo la laurea in letteratura francese, compie la sua formazione a Firenze. Nel 1935 inizia a collaborare con Frantespizio, una delle riviste dell'ermetismo, vi ricordate, l'ho già detto nel video sulla corrente dell'ermetismo e pubblica La Barca. Si trasferisce poi a Parma per insegnare in un liceo e collabora con Campo di Marte, un'altra delle famose riviste. Nel 1940 esce Avvento Notturno, che è considerato un testo esemplare della nuova tendenza ermetica. Le più significative raccolte e pubblicate nel dopoguerra sono quelle che vedete qui. Abbiamo un brindisi, quaderno gotico, le primizie del deserto, onore del vero, nel magma, dal fondo delle campagne e su fondamenti invisibili. Scrive molto, scrive molto Mario Luzzi e noi leggeremo alcune delle sue poesie più belle. Luzzi è stato anche autore di testi teatrali, concepiti sotto forma di poemetti drammatici e traduttore. È morto a Firenze non tanti anni fa, nel 2005. Il poeta ha definito i suoi versi giovanili come l'emozione di un primo contatto consapevole con la vita. I motivi della sua poesia sono legati al concetto del tempo e dell'eternità, dell'apparenza fenomenica e dell'essenza nascosta. Il fenomeno è ciò che appare, ciò che si manifesta, invece l'essenza è ciò che ci rende unici. La vita del soggetto è la vita del tutto. In Luzzi la poesia è la sola realtà praticabile, però è una realtà che si pratica attraverso una fitta rete di analogie. Il procedimento è evidente in avvento notturno che è una sorta di manifesto dell'ermetismo. Da quaderno gotico vediamo un momento di transizione del poeta. Infatti dal primo dopoguerra l'individualismo ermetico entrerà in crisi. Il suo modo di poetare diventerà più aperto e comunicativo, come emerge in onore del vero. Negli anni 60, da Nel Magma, l'ultima fase della poesia luziana si confronta con la cosiddetta società del benessere, quindi questa società che propone il benessere, ma in fondo è una società del malessere, che è ancora un po' la società in cui siamo oggi. Luzzi rovesce i presupposti della sua formazione ermetica, esposta all'attenzione sul rapporto tra il soggetto e la realtà, che entra nei suoi versi come un magma infuocato. Leggiamo insieme Avorio. Parla al cipresso equinoziale, oscuro e montuoso esulta il capriolo. Dentro le fonti rosse e le criniere, dai baci ad agio, lavan le cavalle. Giù da foreste vaporose immensi, alle eccelse città battono i fiumi. Lungamente si muovono in un sogno affettuose vele verso Olimpia. Correranno le intense vie d'Oriente, ventilate fanciulle, e dai mercati salmastri guarderanno Ilari il mondo. Ma dove attingerò io la mia vita, ora che il tremebondo amore è morto? Violavano le rose l'orizzonte, esitanti città stavano in cielo, asperse di giardini tormentosi. La sua voce nell'aria era una roccia, deserta e incolmabile di fiori. È una delle poesie più rappresentative di Avvento Notturno del 1940. Ho voluto leggervela, anche se questa è una lezione introduttiva su Luzzi, perché voglio che lo capiate, che lo conosciate un po'. Mentre per altri pilastri come Ungheretti, Montale, le poesie sono talmente famose che si commentano da sé, è molto probabile che alcuni di voi non abbiano mai letto Avorio. Avvento Notturno, quindi questa raccolta, è la risposta di Luzzi ai tempi bui del fascismo e della guerra di Spagna, mentre sta per deflagalare il secondo conflitto mondiale. La sua poesia si fa notturna, come il titolo della raccolta preannuncia. Vediamo anche l'influenza di Mallarmè e di Dino Campane, dei suoi canti orfici. Il cipresso equinoziale è un esempio ermetico di un'immagine che perde concretezza. In questo caso equinoziale è che divide a metà il paesaggio, come l'equinozio divide il giorno e la notte in parti uguali. Vediamo quindi un rimando alla verticalità, mentre in altre parti della poesia emerge l'orizzontalità. Le immagini più sfumate dei versi successivi sono molto interessanti, per esempio le cavalle che lavano via i baci dalle criniere in un'acqua arrossata dal tramonto. Anche questa è un'immagine molto evocativa, priva di concretezza. Anche i versi successivi ci mostrano queste immagini poco concrete. Le città sono eccelse, le vele affettuose, può essere una vele affettuosa? Le foreste sono vaporose. La dimensione mitica emerge in questi versi e prevale anche evocando un oriente un po' evanescente. Anche il motivo delle vele ritorna nel sintagma ventilate fanciulle. In questa evocazione mitica però poi serpeggia un elemento imperfetto della realtà e il poeta dice, ma dove attingerò io la mia vita ora che il tremebondo amore è morto? Da questo momento le immagini del sogno svaniscono, puff, e lasciano il posto al ricordo di un sogno ormai svanito. Tutto adesso ci parla del disincanto e ci resta l'immagine della roccia che non può essere riempita di fiori, proprio come la vita del poeta. Vita dura. Una poesia che ho scoperto di Luzzi è La notte lava la mente, che fa parte di Onore del Vero. Una poesia bellissima che vi permetterà di fare anche dei collegamenti addirittura con Dante. La notte lava la mente. Poco dopo si è qui, come sai bene, fila d'anime lungo la cornice. Chi pronto al balzo, chi quasi in catene. Qualcuno sulla pagina del mare traccia un segno di vita, figge un punto. Raramente qualche gabbiano appare. La notte lava la mente. In un'intervista è stato chiesto proprio a Luzzi che significato dà alla notte e dice per me la notte, come in Dante, è una reimmersione nel principio naturale, nell'umano, nella fisicità dell'uomo. La notte è quel territorio di non appartenenza, ma del quale fin dalla nascita facciamo parte. In cui ci mettiamo in comunicazione, oltre che con l'origine, anche con tutte le oscurità della terra, ma con una forza ed un'energia rinnovata. E senza questo lavaggio forse non troveremmo la spinta per la purgazione. Quindi la notte ci lava, ci purifica. Il cammino in la purgazione è il cammino che va verso la montagna anche del purgatorio, quindi il cammino dantesco. Le anime cosa fanno? Vanno a farsi belle, lo dice lo stesso Dante, quindi le anime purganti. Si tratta delle anime dei superbi che percorrono in cerchio la prima cornice e hanno dei massi pesanti che le appesantiscono. Alcune di esse sono pronte a saltare, quindi ad essere purificate e arrivare poi al paradiso, mentre altre sono solo all'inizio del faticoso percorso. La notte lava la mente è una lirica meditata sull'uomo e sul suo vivere. Qualcuno sulle pagine del mare straccia un segno di vita, figge un punto, quindi lascia un segno. Luzzi ci invita a capire quanto il tempo è prezioso e sempre in questa intervista ce lo ricorda. Il purgatorio è l'unica cantica in cui vige il tempo. Che significato ha per lei il tempo? E dice Luzzi il tempo è l'anima, il contenitore della nostra esperienza, quindi anche della poesia. Come non essere d'accordo? Infine, raramente qualche gabbiano appare. Anche qui riferimento dantesco, secondo canto del purgatorio. Ecco l'angelo di Dio, piega le mani, o mai vedrai di sì fatti ufficiali. È l'angelo nocchiero. Le ali di gabbiano aperte ci rimandano alle ali di quest'angelo. Voglio anche portarvi una piccola parte di disse Antigone. Citiamo quindi Antigone e Creonte. Nell'Antigone di Sofocle viene descritta proprio la vicenda che li vede contrapposti. Creonte diventa re di Tebe con poteri assoluti dopo che muore Eteocle. Diventa re con poteri assoluti dopo che Polinice, il fratello, lo ha ucciso. Anche Polinice muore e Creonte non permette che venga sepolto con gli onori. Antigone, che era fidanzata del figlio Emone, vuole seppellire il fratello, ma Creonte la condanna a morte. La mura viva in una tomba. La libera poi, incalzato dall'indovino Tiresia, però ormai è troppo tardi. Antigone viene ritrovata morta ed Emone si uccide sul corpo dell'amata. Abbiamo quindi se Antigone, che è un testo tratto da uno scritto di Mario Luzzi per uno spettacolo teatrale. Antigone e Savonarola bellissimo. Disse Antigone, non mi avrai, Creonte, né domata né persuasa. Ti sguscerò tra le ombre dei pensieri. Troverai la spada dei miei implacabili argomenti, confitta nel midollo delle tue risoluzioni. Sarò entrata dentro il tuo recinto. Mi avrai come una lima di dubbio e di rimorso, nel sonno e in ogni gesto di arbitrio e di potere. Mai ti libererai di me. Con Disse Antigone, Luzzi va all'essenziale della tragedia antica. Antigone dichiara il suonò a Creonte in nome di una scelta di libertà. Spero che questo video vi sia piaciuto, che googliate Mario Luzzi e cerchiate le sue poesie perché meritano. Vi ricordo di attivare la campanella, lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e al prossimo video! Grazie a tutti!